Agostini, Laudrup, Altobelli e De Agostini che conclude fuori. Cricella agevola involontariamente la manovra degli avversari. Bambasten, Gullit, Bambasten, uscita di Tacconi, fallo su Bambasten. E poi, nella punizione, Gullit manda alto sopra la traversa. Evani, Gullit, Donadoni e l'intervento di Tacconi. Juventus in azione, Marocchi, Altobelli, Barros esce dall'area Galli con mezzo fallo su Barros. Dalla conseguente punizione nasce questo corner, Marocchi e parata di Galli. Ancora Juventus, Barros, scambio con Zavarov. Conclusione, come vediamo fra un attimo, del sovietico, però fuori. Tassotti sta per finire il primo tempo. Tassotti, Gullit, che manda alto. Andiamo alla ripresa. C'è molto Milan in questa ripresa. Ancelotti per Bambasten, ostacolato da Brio. Il rompe, Gullit, Tacconi, De Via. Ancora i rossoneri, Bambasten. Il suo cross nessuno aggancia. Poi Colombo per Bambasten, la conclusione a lato. E qui invece Evani, ancora per Bambasten, la parata di Tacconi. E in ultimo l'estremo difensore bianconero si esibisce in un'altra parata su spunto di Donadoni.